In subordinazione si può dire, nel confronto del suo allenatore, eravamo a 31 minuto, Fiorentini in svantaggio, entra Olivera, Giaici se la prende con Deglio Rossi, che però ha una reazione veramente spropositata, arriva a colpire anche probabilmente il suo giovane giocatore Gianluca, era una situazione di espulsione? Assolutamente sì, il quarto uomo...